E' stata presentata a Catanzaro in collaborazione con la regione Fattorie della Piana la prima filiera agricola certificata Campagna Amica d'Italia. La cooperativa Fattorie della Piana che costituisce una vera e propria filiera agroalimentare ha ottenuto infatti la certificazione Campagna Amica che col diretti attribuisce a realtà virtuose nella realizzazione dei prodotti locali al 100%. Avere queste testimonianze in una zona difficilissima qual è quella della Piana di Giretaro Rosano significa che la Calabria non solo sta lavorando bene ma ce la farà in modo tale da poter far emergere tutto l'agroalimentare made in Calabria e vincere questa sfida anche internazionale. Fattorie della Piana è una cooperativa che commercia il 95% della sua produzione in vendita diretta ad oltre 1131 clienti sparsi in Italia e nel mondo e da oggi affiancherà al proprio marchio quello di Campagna Amica. Fattoria della Piana spedisce i propri pecorini, questo lo dico con orgoglio, negli Stati Uniti, è presente nella più grande catena di distribuzione esistente negli Stati Uniti, Kroger che ha 2800 supermercati e ha 431 mila dipendenti. Lì esportiamo il pecorino calabrese quindi non è solamente un risultato di Fattoria della Piana, è un risultato dell'intera Calabria perché quando si parla di pecorino calabrese iniziano pure a capire che esiste una regione che si chiama Calabria. Quindi quando si fanno le cose bene si ottengono risultati su tutti i fronti, questo bisogna solo operare con serietà e professionalità. Chi si accredita a Campagna Amica si assoggetta ad un unico sistema di controllo e sposa, ha spiegato Pietro Sirianni, coordinatore di Campagna Amica a Calabria, un'unica filosofia che è quella di un mondo equo, democratico, sostenibile, etico, bello e sano. A chiudere gli interventi il presidente della regione Mario Oliverio, la Calabria che lavora e che produce, ha sostenuto, esiste e consente al nostro territorio di crescere. È un esempio di come costruire il sistema per valorizzare le nostre produzioni, per trasformare le nostre produzioni, è la via che bisogna seguire. È presente nei mercati italiani, internazionali, credo che avere certificato oggi da parte di Campagna Amica, la Coldiretti, questo sistema, questa filiera è di notevole importanza. Grazie.